basta basta eh cosa c'è chi inizia con buon pomeriggio c'è chi inizia con bella a tutti e chi inizia con basta ognuno deve avere proprio sì ragazzi c'ho 36 musiche nelle orecchie però che cazzo succede allora aspetta c'è il music a bass ah è la musica di brul ma no ragazzi è già qui tu non la senti così purtroppo mi abbassa tutto tutto zitti 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 silenzio oh che bello che bello ho il microfono a zero è bellissimo allora aspetta devo vedere una cosa intanto prima di iniziare che cacchio si dice su youtube eh che si dice vediamo di farci una reaction dopo se c'è qualcosa di interessante aspetta ti faccio vedere anche a te no no michele minchia michele ecocentrico cambia michele arriviamo a te sta tranquillo intanto fammi vedere una cosa va bene la iscrizione ecco qua lo spero ha fatto qualcosa su blur ma quando mai il gabrone sta organizzando una protesta per il suo permaban al grembaud show e noi non lo guarderemo vabbè madora ragazzi io devo fare una reaction a questo da tipo mesi prima o poi gliela faccio non so quando ma prima o poi ecco come risparmiare energia consuma di più lo stand by che cucinare ma come consuma di più lo stand by ma allora è una presa per il ma ma c'è consuma di più lo stand by di questa cosa che cucinare stacca la spina non metterlo in stand by fuc vabbè senti bro non c'è un cazzo dai abbiamo capito che youtube ultimamente è proprio morto per cui dobbiamo fare visual noi grazie mille ragazzi a un 1735 grazie ancora arigato arigato iniziamo ma andiamo tutti un po a fanculo diventiamo che succede che succede michele michele si è oscurato il michele aiuto io direi dobbiamo essere noi polarizzati ragazzi perché quattro i metti non fancazzo nessuno è qui facciamogli vedere come si fa allora qua finestra 1 gli effetti funzionano ma sì che funziona sì ma cos'è cosa ho messo oggi allora se premo 1 diventa eh cazzo ok se premo 3 ehi e io so cantare cazzo volessi dire bro ok ok va bene giochiamo ragazzi potrei avere qualche difficoltà a leggere la chat oggi come al solito mio questa musica abberrate come sempre allora vediamo che succede oggi su brawl che si dice ragazzi che succede no io non ci sto su un club io sono un lupo solitario mi spiace non ci entro anzi ragazzi creiamo un club noi no eh i miei abbonati i miei iscritti ma guarda ragazzi lo store lo shop vedo con piacere che i server non li fixano bravi brava supercell brava cioè mi si affrezzato il gioco io ci creo la clippina su sta cosa voi non ci credete ciao quando guadagni i miliardi ogni mese ma non sai ottimizzare i server oh abbiamo detto sì l'ho detto ragazzi l'ho detto guarda guarda ma lo fai apposta ma lo fai apposta ragazzi siamo rimasti qua oggi mi sa che faccio esco ragazzi ne è valsa la pena per 5 crediti ho aspettato quanto tempo? 30 secondi? grazie mille pd5 pd5 benvenuto o benvenuta sì però io ma raga raga non fa più niente raga non taccia ciao benvenuto io vorrei giocare oggi raga sono tentato a uscire e rientrare oh ce l'abbiamo fatta no esci da sto cazzo di store basta non devo fare più niente esci oh beh guarda caso tutto il resto non lagga esatto esatto si bugga sempre vabbè ragazzi giochiamo già abbiamo perso un sacco di tempo ah singolo che mappè guarda caso qui il nostro Michele potrebbe essere utile eh proviamo dai secondo me riusciamo a fare un po' il devasto come ieri posso giocare se ho 34 ma guarda intanto seguimi su Instagram, Youtube e poi sì assolutamente sì allora e ragazzi oggi oggi andiamoci un po' più con calma ma non facciamo il devasto che abbiamo fatto ieri va bene ehi ehi ho detto minchia bruttissima situa regaz aspetta mi devo mi devo concentrare salve mister mister è morto no no tu non scappi però così eh eh vabbè ciao ragazzi ciao ma sono scappati tutti però colpa di Leon qua adesso ci pensiamo noi sì 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 sdoppia di Leon sì 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 non servirà ok mi sa che questa mappa non è buona per noi eh è assolutamente buona per Mike eh però ragazzi però ragazzi volete saltare in aria? via qua no allora devo dire ci stiamo difendendo abbastanza bene però vai te la vuoi fare fatti sta scema oh buono eh ragazzi se non killiamo eh siamo sempre al centro qua brutta situa guarda sto scepo ehi ehi vai esplodi no l'avevo droppata la super come ti chiami su insta aspetta te lo scrivo scrivo ecco a lei messere ok dai ragazzi però è stata bella questa mi sta divertendo eh sì un sacco guarda quinto? c'è tutto sto casino sto devasto e sono arrivato quinto fuck allora facciamo così facciamo così qua ci sta un lanciatore c'è un team alla distanza sì ci sta tiratore scelto andiamo andiamo ragazzi no forse voi non avete capito noi non perdiamo effettino tattico vi è messo? no effettino tattico ah ecco qua ragazzi buona fortuna a tutti oggi mi sento leggermente un Nita Nita tutto bene? e qua Nita Nita ti vuoi nascondere Nita non funziona così Nita non camperare Nita n vince brava Nita Nita dai Nita mi chiamano occhio di falco a me lì qua attenzione Nita ci ha messo all'angolo attenzione dai però lasciarla così è un po' vabbè aspetta aspetta c'è Bibi qua Bibi mi fa il punto perché? che c'è Bibi? che problema è? che cosa? che succede? aspetta dai bro ma stai scherzando no raga non mi piace sta mappa è la mappa il problema togli esse effetto audio fatto ok guarda guarda bruttissima situa non vedo un cazzo allora Bibi è qua è successo il devasto è successo il devasto Bibi non farlo ahhh ragazza fortunata devo dire madonna ora viene per noi ora viene per noi oh intanto siamo tre eh si però ragazzi no no bro 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 eh dai fuk allora il problema è Bibi ragazzi se ci facciamo Bibi quest'altro è molto semplice da fare for real for real secondo te come si fa a sciopare su Brawl senza carta? eeehm devi essere un mezzo hacker ovviamente cosa che non consiglio ragazzi cioè nel senso o devi avere un amico o devi avere uno zio o devi avere un papà che scioppa per te e quindi tu lo fai senza carta come ho fatto anch'io molte volte con i miei cugini oh oh ecco ecco miglioriamo questa giornata? eh? ma anche no fuk vabbè ragazzi facciamo così scegliamo qualcuno con meno trofei sempre tiratore oh Mandy vai 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 si Mandy scretolatore la caramella che Mandy lancia buono perfetto andiamo let's go ski ma poi quant'è? non è stato tipo a 7 euro vabbè si può fare dai cioè oddio per chi ci crea contenuto si può fare ovviamente chi lo fa così per svago ok andiamo oh no Colt che ti Colt la cassa o la vita? ecco madonna siamo troppo arrabbiati oggi ragazzi calmi oggi oh 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 no 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 guarda questo tu ti senti ancora OP? guarda vabbè ma sei proprio sceco senti perla ecco madonna bellissima questa comunque aspetta che Frank è un problema Frank è un problema ok era era ragazzi Franky oh 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 guarda questa guarda ti prendo lo stesso eh brava molto intelligente ok ok questo è molto easy perché lei mi sta a basta di di coppe cerchiamo di salire cerchiamo di salire io vorrei capire perché non mi metti gli effetti se premo uno così perché ho un po' scemo oggi evidentemente ammettimi cazzo gli effetti allora ragazzi eeeh oggi oggi vinceremo perché ah c'è poco ragazzi ma si dice poco o poco ottimo santo chi è no questo no vabbè questo è un po' scemo no ho sbagliato il colpo decisivo dai ah vieni qua mister 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 sei una cabina a 84 però quante vite c'hai ah ecco anzi è un tank vabbè wifi ormai abbiamo capito che fa così allora candy store oh shelly shelly minchia troppo vicino a shelly ecco ragazzi shelly è una che ama il contatto fisico la vicinanza capito però insomma eh aspetta due secondi ok ci sono guarda qui c'è una rosa molto ehi 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 rosa è un'altra che ama il contatto bruttissima situa ragazzi madonna aspetta allora questa è a distanza per cui che fai che che fai troppo vicina aspetta rosa rosa vieni qui chi è rimasto oh il primo ti voglio un bene dell'anima primo proprio perché vinco contro il primo allora aspetta c'è qua oh a posto prendiamoci le ricompense di oggi che mi hai dato sono passato di e mi sa di sì oh no pure questo ah ah questo non lagga ragazzi è una sfida contro oh ehi ancora più in alto dai dammelo leggendario da ma ho la faccia da epico supercell ehi ma che combini supercell noi vogliamo le big ricompense com'è che già siamo a 20 minuti ragazzi adesso vi devo dire una cosa eh finiamo brawl e vi dico e vi dico quello che faremo oggi sia sia a pranzo sia a cena la senti eh si tu non oh no 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 tu no ascolta io te voglio bene questa mi fa paura ragazzi non so perché dai è ripresa eri eh bellissima bellissima io spero si sia vista in camera penso proprio che sì allora eh questa mappa devo dire con questi toni arancio grazie gra ma io stavo vedendo la mappa bro stavo facendo delle dei complimenti all'erba micchia ragazzi mi distraggo due secondi qua mi fanno bene è così che deve essere forza noi lo vogliamo così questo gioco dai 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 ma sì tanto vinco perdo mi escono lo stesso le cleppine quindi non ti creare problemi mister sì però questa no tu no vabbè non sai manco giocare con questo qua voglio dire allora qui c'è la cabina telefonica vieni cabina cabina perché mi devi rompere le palle a me eh adesso ma poi dico non sai neanche come funziona il tuo power up vabbè è un po' scemo questo allora ci prendiamo un po' le nostre robe ehi wifi che cacchio fai la cassa aspetta questa è un'altra di noi è un'altra noi è un'altra me ehi un'altra me un po' fiacca devo dire eh però prendila sta scema è la nostra noi del passato capito è più fiacca aspetta che questa mi fa ecco mi fa gli scherzetti ok eh potrei avere un attimo di riposo no dico ehm mi chiede che partita combattuta tutti come le sto facendo oh shit la sedi tu vai quest'altro cosa vuoi ehi sono miei questo vuole il power up eh ehi ti senti al sicuro dietro il muro non lo sei ecco lui non sa della nostra super era preparato capito ok cambiamo personaggio cambiamo personaggio perché secondo me in realtà un lanciatore si potrebbe usare in questa mappa però è difficile che fa che fa non carica aiuto che succede ah ecco si no no ragazzi ragazzi me non scioppo non mi esce un cazzo io vorrei provare allora o proviamo proviamo lui mister grey che skin è questo grey fuggitivo ah certo ci sta secondo me lui con la sua super e i suoi portali riesce a fare cose molto fighe in questa mappa proviamo aspetta ma io ehi tutto bene qui ottimo fantastico andiamo paraparam allora ragazzi oggi sono un fuggitivo e guarda già che mi metti lontano dalle casse sei proprio un infamone però dico detta poi mi metti vicino a questa grazie la cassa la cassa o la vita via qua si 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 hai scelto la cassa bra molto intelligente ti sei parato con cacchio rosa dai rosa no se l'avessi presa ragazzi no rosa rosita rosita si però vabbè mira ehi fatti rosa io mi faccio te ragazzi che casino è oh no 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 perfetto ragazzi l'inizio di ogni battaglia è molto eh capito oh no c'è Ash allora eccolo qua si 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 Ash ma secondo te no ma secondo te eh io non posso scappare dai tuoi pinguini aspetta è questo si sta prendendo le casse si però non ti salverà Albi però dovresti mirare Albi Albi ragazzi oggi non ho mira oggi non vedo eh però Gino vieni qua ragazzi eh vot ci sono quelle giornate no e questa è una giornata è una giornata eh cambiamo personaggio è una di quelle giornate si si però Hank io no non lo uso Hank Cordelius ci potrebbe stare però non lo so mi sembra molto da vicino lui capito vediamo dai proviamo fatemi provare secondo me riusciamo a fare le cose belle ok ok c'è un Hank c'è un oh ci saranno vicino Hank e chi no ehi ehi non lo sai usare Hank bravo bravo si 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 fallo fallo bravo adesso ti avvicini si oh guarda questo no ragazzi è troppo vicino no ragazzi è troppo vicino brutta situa brutta situa ehi che fai eh eh oh bravo si poi dai mister ma che devi fare mister l'ho preso mister mister basta ah deve essere bravo a schivare ragazzi io non sono bravo oh no questo no vedi che si mettono tutti i lanciatori vedi dai vieni qua vieni che devi fare più siamo molto tossici con questo personaggio devo dire siamo molto tossici ah ma questa è ancora qua ma ce ne stanno due addirittura allora tu devi andare devi tanto non te la metti la salute non hai capito se fai così tu fai così qualcun altro arriverà ecco eh vedi vedi ok gas a posto mamma mia rega scagno il personaggio subito eh ho capito vinci 5 guattai non è la sua mappa non è la sua mappa ragazzi mi spiace allora potremmo usare mmm mmm ma guarda lui non lo uso da un po' andiamo si solo perché mi manca capito mi manca il fenghino eh il fang forza quanto stiamo minchia 25 guattoli ragazzi tra un po' dobbiamo cambiare il gioco dobbiamo provare un gioco bellissimo che ho scoperto da poco oh no fengh ma questa fiacchezza da quando ah lui deve essere vicino oh ti prego no è come ah ok bella sta cosa uuuuh ci siamo fatti mister toxic e dai un po' di salute mister vada mister questo è un problema ho bisogno di qualche power up eh vabbè però allora calmi eh questo chi è è angelo eh mi sa te si vada angelo mi è qua io non so ok questo tira farfalle bene mh devo dire bravo si si vuoi fare mettimi ansia si 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 vai vai ok lui pensa che noi siamo i più i più deboli vuole venire da noi mi è qua vieni si 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 fallo fallo non servirà ragazzi siamo noi tre è combattutissima oh basta angelo fai di me quello che vuoi no scherzo ascolta dov'è è qui dietro questa questa piantina angelo lo so che sei qua esci fuori angelo ragazzi dobbiamo avvicinarci altrimenti no non minciamo vabbè aspettiamo due secondi ascolta mister mister adesso adesso basta mister vabbè ragazzi gg per angelo bravo bravo ovviamente il tizio aveva un altro nome però capito allora proviamo sta pazzoide ovviamente con la skin dai facciamoci le ultime due e poi cambiamo il gioco dai secondo me willow potrebbe essere interessante questa mappa dai eh no dico secondo me è willow ui madonna non ho visto i brawler siamo fregati ragazzi siamo fottuti oh ma spunta ma spunta il tentacolo quando sparo no vabbè mi sento mi sento cattivo e tu che facevi tu camperavi eh no no dico vieni qua vabbè c'è esiste un inferno per chi campera tu lo sai nei videogiochi ecco sei pure morto grazie amico mio lu tu sei il prossimo aspetta due secondi lu lu stai calmo lu devi stare calmo lu ma chi pare che gioco da ieri lu dai lu dai oh ragazzi ah ma io c'ho l'effetto si aspetta aspetta c'ho un lion arrabbiadissimo qua non mi fido si raga no che cacchio di vettine no eh beh ragazzi ragazzi è brutta si guarda due lion si stanno scannando tra sta al culo ragazzi a volte la bravura non può contrastare il matchmaking capisci oh comunque terzo io onesto onestissimo vai facciamoci l'ultima e poi vediamo poi vediamo no oggi clash no ragazzi no clash clash royal mi sa molto di altalenante capito non oh mio dio il gatto porta fortuna giapponese eh non ti ha portato molta fortuna questa volta si raga dopo dopo quel video pocio pocio che fai pocio la cassa è mia pocio non farlo ecco oh no pocio pocio perdonami no stavo dicendo dopo l'ultima volta in cui ho detto che quel gattino era cinese mi avete preso a parole grazie guarda l'ho uccisa io mi ha fregato la kill vabbè ragazzi quella Bea deve andare guarda sì sì mi ha fregato pure la cassa Bea occhio ehi Bea che fai? no dico Bea vieni qua Bea Bea c'ha paura c'ha attenzione oh no c'è il cannone ce l'ha con noi aspetta fuc il cannone di Penny la vita è strana ragazzi tu ti fai affare i tuoi tutto un tratto il cannone di Penny ti spara così senza e Penny è andata non si sa allora tu te ne vai spara tutti i proiettili perfetto ottimo vedi come si fa guadagniamo un po' di spazio oh mi sa pure che vinciamo dai come ti fai mister ah devo dire sei bravino però adesso basta schivare eh se schivi e basta non è che vinci eh dico se schivi e basta non è che vinci ti manca quella quella la parte offensiva no e non vinci mai ah dammi qualcosa suca ah sai che facciamo siamo a attenzione che cosa mi dai ah niente niente voglio giocare quando perdo no allora GG a tutti madonna che abbiamo un un roster molto vario che ha detto questa ha detto una cosa eh bra non mi dare casse bra eh gioco sei molto gentile devo dire hai capito pezzo di merda stava caperando questo ehi ehi guarda che non si fa ma che non lo sai che non si fa ecco adesso muori no no tu mi prendi tu mi prendi il potenziamento muori eh te lo dico oh stai lì corvo approfittatore ragazzi c'è un corvo qua sopra forse non l'avete visto in camera sta qua ecco vedi vedete sei arrabbiato mister cioè dico mi volevi rubare il potenziamento e ti sei pure arrabbiato ma sei un po' toxic no camperoni di merda no dico camperoni un po' di merda ma che cosa faceva questo dentro il cespuglio edgar e ho capito mi appunto lo scorpione sono morto sono morto tutti i seti vabbè ragazzi dobbiamo rifarci sì sì assolutamente sì non mi importa noi ci dobbiamo rifare oh allora occhi aperti perché ah c'è un altro edgar eh sì ciao allora questi mettimi a beh sì mettimi proprio al fianco di una mia simile che mi ha quasi ammazzato mi ha ammazzato bene bravo bravo si va così il gioco bravissimo io dovrei imparare a meditare ragazzi dovrei meditare più spesso la meditazione è quello che ci vuole in questi in questi casi e questi oh mio dio c'è un altro angelo beh it's revenge no stai zitto abbiamo perso tre volte tesoro non parlare per favore stai zitto chi c'è qua non c'è nessuno attenzione siamo soli beh eh però anche questa vedi è molto fiacca c'è bonnie c'è bonnie amica mia vieni qui dai bonnie bonnie ascolta mi piace un po' di più clyde vieni qua dai non lo vuoi il potenzialetto bonnie che fai l'occhiolino è scema oh mio dio mi sta facendo bonnie aspetta allora facciamo così bonnie intanto io mi prendo questo potenziamento hai capito bonnie zitta zitta prendi sto coso dio oh calmi eh allora senti tesoro tu hai rotto un po' le palle eh allora questo è mio c'è un carletto che si sente e fa bene oh è andato via no c'è un'altra noi c'è un'altra noi ecco qua oh attenzione che fa che che fai che fai avevamo cinque e lui aveva cinque power up io cinque perché mi ha ucciso subito ma questa è fiacca aspetta mi fai vedere un attimo i suoi potenziamenti questa è fiacca ma sta zitta che sei più fiacca di non so cosa lanterna dobbiamo comprarci questo ragazzi rigenerazione salute più veloce altrimenti questa non si può pusciare proprio micchia due colpi quello scemo là si ragazzi si ci ho messo qualche effetto no vero no perfetto andiamo let's go skip non so dove ah penny no piper ah seddi piper ascolta tubo di di scappamento che fai mi hai rotto la cassa no non voglio non voglio no no non voglio giocare con te aspetta qua ci sono due casse però è zona un po' difficile occhio vediamo se riusciamo a prenderle entrambe perfetto piper stai lì stai a distanza occhio che qua ecco ecco ragazzi no no ma che fa ma c'è la cassa oh grazie ragazzi mi hanno rotto la cassa molto gentili occhio qui c'è un piper da qualche parte allora abbiamo 5 power up ok siamo abbastanza potenziati appena qualcuno mi ammazza in due colpi io imprego non so cosa chi è questo oh lenni come si chiama questo che strozzo mi hai fregato la kill sto qua mi hai fregato la kill eh adesso io ti frego qualcos'altro madò c'è no c'è il pinguino a 10 power up no ragazzi abbiamo perso abbiamo perso eh sì ho capito però si è ammazzato ragazzi ha capito che eravamo troppo potenti no e ha deciso di farla finita capito sì sì succede anche questo in ogni partita la gente sì vabbè basta ragazzi basta basta sto gioco ogni volta mi micchia mi puscia il sistema nervoso me lo puscia proprio ahhh mi puscia un po' tutto allora senti togli sta musica per cortesia togli sta musica di di brawl ahhh grazie ragazzi per carità bellissimo gioco ma questa musica del menù non ci sta mi hanno fatti di migliori mettiamola così tipo quella del circo è bellissima questa mi fa altamente cagare